Il ministro della pubblica istruzione Bianchi agli stati generali appunto della scuola che si tengono al palazzo della prefettura. Non solo questo è il tema ma anche la terza dose agli insegnanti. Beh sì, ho insistito molto su questo. Sono stato io a farmi partecipare fin dall'inizio. Credo che sia necessario che loro siano in via prioritaria quelli che possono usare la terza dose. Sugli insegnanti non vaccinati il ministro dice con la nostra piattaforma non abbiamo avuto problemi. Ci comportiamo come tutti, abbiamo fatto una piattaforma che ci permette ad ogni preside di sapere alla mattina esattamente chi è presente. Però abbiamo visto che non ci sono state disfunzioni in nessuna parte del paese. Nel convegno ospitato dal Salone d'Onore della prefettura e a cui hanno partecipato studenti, docenti, sindacati, dirigenti scolastici Regione Toscana e il presidente della Commissione Istruzione e Cultura al Senato Riccardo Nencini si tracciano le linee per quello che riguarda la scuola del futuro contando soprattutto sui finanziamenti che arriveranno. Beh questo è un evento importantissimo. Un evento importantissimo perché comincia le attività che faremo in tutta Italia e negli stati generali e il fatto di cominciare da qui al resto è straordinariamente importante. I temi che affrontiamo sono temi della siamo riusciti ad aprire, adesso andiamo avanti e quindi sono temi che legano direttamente il PNRR che è la nostra grande opportunità alla vita quotidiana delle nostre scuole. E il ministro Bianchi ha promosso a pieni voti anche il modello rondine cittadella della pace. Perché è uno dei tanti modelli che dimostra che si può fare una scuola bella, una scuola aperta e una scuola affettuosa come abbiamo detto tante volte. È stato lui infatti ad aprire i lavori dell'incontro dal titolo Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali che si è svolto come side event nel settore dell'istruzione nell'ambito della presidenza italiana del G20. Rondine diventa così un modello esportabile. Stiamo provando già con più di 20 scuole in tutto il territorio italiano e stanno avendo un bel successo. Abbiamo formato 150 docenti e abbiamo già alcune decine di scuole che bussano alla porta per entrare dentro questa sperimentazione nazionale e forse anche non oltre. Rondine sta uscendo dal suo borgo e sta mettendo a servizio della scuola italiana un metodo innovativo. Centra essenzialmente sulla relazione tra il docente e l'alunno e il docente e la piccola comunità di studenti che è la classe. Però in modo totalmente nuovo. Chi conosce Rondine sa per esempio che ospita il conflitto come dimensione naturale e positiva della vita degli studenti e della scuola. Senza averne paura attrezza i docenti per farlo diventare energia, crescita e sviluppo. Grazie. 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 Grazie.